ed eccoci col rappresentante della consa al porto roburcosta ravenna che è francesco recine questa sera siete siete partiti fortissimo forse erano proprio questi gli ordini aggredirli cercare di di dare tutto per per cercare di controbattere quella che dal punto di vista fisico in alcuni casi anche tecnico è la supremazia di monza e ce l'avete fatta molto bene fino al 18 pari del secondo set poi è venuta fuori la forza di monza non si può dire niente secondo me perché chiaramente dopo sono venuti fuori anche gli errori però è la forza di monza secondo me che questa sera ha fatto la differenza se devo essere sincero si abbiamo aggredito molto bene all'inizio abbiamo studiato molto bene la partita poi dopo per via di alcune situazioni magari abbiamo perso l'aggressività che abbiamo all'inizio della partita poi togliendo aggressività abbiamo iniziato a fare qualche errore di troppo mettere via la testa un'altra parte e poi loro si hanno iniziato a difendere siccome quella lì è stata la differenza poi ci sono tanti controattacchi da lì noi avevamo la testa bassa e allora hanno approfittato secondo me l'abbiamo buttata via noi stavolta la partita sì chiaramente è cambiato qualcosa come atteggiamento a metà della metà del match però loro difendevano tanto come dici giustamente tu poi tanti palloni toccati alla fine è dura poi mettersi a giocare a rigiocare e contrattacchi con loro comunque venivate da una prestazione veramente ottima a Verona questa sera primi due sette buona prestazione ripartite da questo per poi giocare con la mente libera credo a Perugia mercoledì sera mercoledì mente libera una partita di Coppa Italia secca contro la prima classifica cercheremo di dare il massimo come sempre speriamo divertirci come dice tuo padre spero che Francesco faccia una bella prestazione però che vinciamo noi di Perugia invece spero che la partita sia affrontata tanto è 0 a 0 con il fatto che non avete nulla da perdere mostrare molta aggressività fin dall'inizio per cercare di tenere su un match che all'inizio chiaramente pende tutto dalla loro parte sì sì ci proveremo daremo il nostro e vedremo come andrà a finire contro le big ci abbiamo sempre provato poi qualche volta è andata bene qualche volta è andata male vedremo ok grazie Francesco grazie che correcchene ciao ok